Quando la notizia della morte di Adriano Olivetti giunse a Ivrea, il programma per la conclusione del carnevale venne subito cancellato. Il funerale, tenutosi due o tre giorni dopo, fu un evento grandioso. Vi parteciparono migliaia di persone e la famiglia lasciò le ville in collina per prendere il proprio posto tra la cittadinanza a lutto. Nel frattempo qualcuno fece irruzione nelle abitazioni di Adriano e Grazia e di Dino, il fratello e Posi. Non venne sottratto alcun oggetto di valore, ma gli studi delle due case furono messi sotto sopra, le carte sparse ovunque. Poi trappelò la notizia che erano spariti alcuni importanti documenti. Quali? Nessuno disse nulla al riguardo. Su questo argomento l'autrice scrive alcune pagine particolarmente forti sulle coeve capacità tecniche e umane della CIA di causare morti apparentemente naturali e presenta anche alcune precise supposizioni sul caso, tanto più pungenti quanto più supportate da documenti e motivazioni. Ma lo vedremo anche per il capitolo successivo di questa storia. Alla morte di Adriano, il ruolo di presidente passò a Giuseppe Pero, ma per il laboratorio di ricerche elettroniche non cambiò granché. Stando a quanto ha scritto Pier Giorgio Perotto, Roberto Olivetti era l'unico rappresentante dell'alta direzione che seguisse con assiduità i nostri lavori. Anche dopo la morte del padre contribuì a proteggere le attività dalla ridda di voci e di discussioni che mettevano in dubbio la validità della nostra esistenza. Roberto si interessava con sincera passione a ogni sviluppo, per cui si era creato tra noi, continua Perotto, un clima di amicizia e di solidarietà, quasi da gruppo di cospiratori. Lui e Chu continuavano a incontrarsi anche la sera per discutere. Di solito cenavano nella casa di Mario, progettata da Sozzas, la prima avventura architettonica del designer. Mario Chu riprese da dove Adriano si era interrotto. Contattò l'ambasciata cinese, che aveva intanto avviato degli studi sui computer. Pianificò anche un viaggio in Cina nell'estate del 61 e ovviamente l'itinerario prevedeva una tappa a Pechino. Al viaggio avrebbe dovuto partecipare anche Roberto con le rispettive mogli, Elisa e Anna. Però questo viaggio non si fece mai perché c'erano problemi con il visto. Gli Stati Uniti avrebbero negato l'ingresso alle persone che erano state in Cina, per cui ripiegarono su un viaggio a Hong Kong. In quel periodo difficile non erano soltanto i viaggi tra Stati Uniti e Cina a presentare difficoltà. Il clima tra l'Occidente e il comunista si stava infatti facendo sempre più teso. Nell'ottobre del 61 l'URSS in France è una sorta di tacita moratoria sui test per lo sviluppo di armamenti nucleari, facendo detonare una bomba all'idrogeno da 50 megatoni, la più potente mai sperimentata. I sovietici stavano anche sviluppando due nuovi modelli di missili balistici intercontinentali, per cui l'opera di intelligence tecnologica diventò un'assoluta priorità per il governo americano. Aggiungiamo, proprio in questo periodo, la crisi di Berlino e il muro che viene alzato proprio in quei giorni. Il 9 novembre 1961, quindi pochissimo tempo dopo il viaggio a Hong Kong, Mario Chu muore per un incidente stradale. L'auto su cui viaggiava, la propria auto, una Buick Skylark, all'epoca in Italia ve ne erano soltanto tre, guidata dal suo autista, una persona capace, esperta, Francesco Frinzi, fa un incidente appunto mortale all'uscita di Santià, sull'autostrada A4 Milano-Torino. E anche in questo caso, e ancora di più che per la morte di Adriano Olivetti, sono tantissime le incongruenze sulla dinamica dell'incidente. Il libro le elenca e le racconta molto bene. E in effetti, a leggere queste pagine, è pesante la sensazione di sospetto e che probabilmente questo incidente nasconda la volontà di uccidere l'ingegnere Chu. La sera del funerale, sulla via del ritorno, Roberto si fermò in un bar e si imbatté in un altro membro dello staff del laboratorio. Chiacchierarono per un po', poi, subito prima di ripartire, Olivetti chiese, che faremo adesso? Se ricevette una risposta, non è dato sapere. Il primo computer da scrivania al mondo, l'Olivetti Programma 101, fu progettato da un team di quattro uomini guidati dal giovane e brillante ingegnere Pier Giorgio Perotto. Nei mesi successivi alla morte di Mario Chu, Roberto dovette trovare da solo una risposta alla sua domanda. Quanto a Perotto sognava una macchina amichevole alla quale delegare quelle operazioni che sono causa di fatica mentale e di errori. Una macchina che sapesse imparare e poi eseguire docilmente, che immagazzinasse dati e istruzioni, e il cui utilizzo fosse alla portata di chiunque. Sembrava un'idea assurda, ma talvolta, nella vita, la decisione più folle finisce con l'essere quella più conservativa. Radunò alcuni ingegneri che la pensavano allo stesso modo e, forte dell'immediata approvazione del progetto da parte di Roberto, iniziò a confrontarsi con gli ardui problemi che aveva davanti. Come rimpicciolire una memoria grande quanto un campo da tennis o comunque quanto un fusto di birra per infilarla dentro una scatola di fiammiferi? E, partendo dall'invenzione delle schede perforate, come trasformare le complicate questioni legate alla programmazione in semplici passaggi che tutti potessero capire? Avevano iniziato a lavorare al progetto nel 1962 ed erano ancora le prime fasi di sviluppo quando una serie di problematiche esterne rischiò di mandare tutto all'aria. Il primo fattore fu la recessione del 62-63 che diede un duro colpo all'azienda. Con la morte di Adriano Olivetti i vecchi attriti si trasformarono in uno scontro aperto fra i vari membri della famiglia. Per esempio l'anziana Silvia pretese che si mettesse fine a quelle che considerava delle pazzie e, per farlo, confidava in un vecchio amico, Bruno Visentini, avvocato industriale e politico, che tra l'altro era già stato sottosegretario alle finanze. Era convinta che Visentini non li avrebbe mai traditi. E così, con le migliori intenzioni, Silvia contribuì a mettere la società sulla via del disastro. Insomma, si assiste a una tempesta perfetta di coincidenze funeste e in apparenza scollegate, che arrivano a mettere in ginocchio l'azienda di famiglia. Tutto era iniziato, come abbiamo detto, con la recessione europea del 62, che aveva fatto calare il valore delle azioni Olivetti, proprio mentre la società scopriva il costo reale, in termini di investimenti necessari, dell'acquisizione dell'underwood. Poi, però, accadde qualcosa di strano. Le banche sembravano irragionevolmente riluttanti a concedere prestiti alla società. Rifiutare prestiti a un'azienda grande e importante come la Olivetti, persino in tempi di crisi economica, sembrava un comportamento incomprensibile. E così, fra mancati investimenti, crollo delle azioni, speculazioni borsistiche e liti familiari, nel 64, la famiglia Olivetti fu costretta a farsi da parte e lasciare entrare nella compagine societaria il cosiddetto gruppo di intervento guidato dalla Fiat. E inoltre, la divisione elettronica dell'azienda fu ceduta alla General Electric. Il rapporto con la General Electric, in particolare, si rivelò ben diverso da una fusione o una collaborazione. L'azienda americana sembrava intenzionata a dimostrare quanta poca credibilità avessero i prodotti italiani al di fuori del design e di pochi altri settori. Come divenne chiaro un anno dopo, quando furono rese pubbliche le clausole della vendita, la General Electric voleva solo una base commerciale in Italia per la distribuzione dei suoi computer. La compagnia americana non aveva infatti avviato una collaborazione paritaria. Aveva acquistato il 75% del capitale sociale per quanto riguardava le attività del laboratorio Olivetti e di lì a qualche anno il nome dell'azienda italiana venne tolto dal marchio. Era tutto finito e Perotto e il suo gruppo l'avevano intuito già da qualche tempo. Ma seguiamo di nuovo le parole di Maryle Seacrest. Anche il gruppo di intervento si muoveva sulla stessa direttrice. Non solo l'elettronica non aveva un futuro alla Olivetti, ma era addirittura considerato una macchia sul curriculum aziendale, un neo sul volto della compagnia. Quando furono resi pubblici i dettagli dell'acquisizione, Vittorio Valletta, il professore della Fiat, dichiarò che quel neo andava eradicato. Qualcuno doveva intervenire per salvare la società dalla rovina. Perotto si sentiva ingannato ed era furioso per l'ipocrisia con cui si era distrutta una divisione elettronica di prim'ordine. Intanto i contabili della General Electric raggiunsero gli impianti italiani e iniziarono a compilare uno scrupoloso inventario dei prodotti e macchinari acquisiti dalla loro società. Bisognava fare qualcosa per salvare il P101 che altrimenti sarebbe stato condannato. E così qualcuno, talvolta identificato con Roberto, dall'altra con Gastone Garziera, ebbe la brillante idea di definirlo calcolatore meccanico anziché calcolatore elettronico, di modo che potesse restare in azienda. E lo stratagemma funzionò. Il gruppo di Perotto non fu trasferito alla compagnia americana, rimase all'Olivetti e il P101 fu salvo. E arriviamo nel novembre del 64. L'ingegner Perotto carica tutte le componenti del P101 nel bagagliaio della sua automobile, uno spazio poco più grande di una scatola da scarpe, e le porta a Ivrea. L'apparecchio viene assemblato e inizia a funzionare. E qui c'è un ricordo della prima dimostrazione fatta ai colleghi della meccanica, in particolare a Natale Capellaro, il progettista della Divisumma, della calcolatrice meccanica. Dimostrammo alcuni calcoli che venivano più frequentemente fatti negli uffici con sequenze manuali, con la Divisumma 24, e che la macchina realizzò automaticamente, stampando con grande velocità lunghe sequenze di risultati. Natale Capellaro osservò con grande attenzione le fasi del lavoro, accarezzò la macchina delicatamente, come se volesse sentirne palpitare i meccanismi sotto le sue dita sensibili di progettista, e restò a lungo in silenzio, come assorto. Quando si riprese, mi batte una mano sulla spalla, ricorda Perotto, e disse, caro Perotto, vedendo funzionare questa macchina, mi rendo conto che l'era della meccanica è finita. Le pagine che seguono raccontano, in modo anche divertente, le varie difficoltà tecniche e di design che il gruppo di Perotto si trova a dover risolvere per assemblare e poter presentare sul mercato il P101. Per esempio, un problema non da poco fu il disegno della scocca esterna, problema poi superato brillantemente, tanto che l'oggetto poi ha un posto d'onore nella collezione del MoMA di New York, tra le vette del design industriale. Ma il problema peggiore fu il furto del prototipo. Il prototipo del P101 era stato trafugato dai laboratori e grazie a un informatore si scoprì in modo rocambolesco che stavano portando il computer in Svizzera. Allora vediamo un alto dirigente della Olivetti che sale su un elicottero con una pistola e dei soldi e in modo forse informale ma efficace, nel totale silenzio degli organi di stampa, si riuscì a recuperare il prototipo trafugato. Insomma, una piccola squadra di volenterosi che si trova a combattere una lotta impari con nemici esterni molto più potenti, con nemici interni che non vanno assolutamente sottovalutati e soprattutto una lotta contro il tempo, perché il loro obiettivo era presentarlo alla Fiera Mondiale di New York inaugurata nel 64 ma organizzata su due semestri, il secondo dei quali era in programma nell'estate del 1965. La P101 doveva essere presentata alla Fiera Mondiale di New York.